con Antonio Parata How to write a malware and learn how to fight it grazie molto bello il titolo è molto parole grosse sì, parole grosse grazie, grazie è un piacere essere qui vi ringrazio ho visto molte presentazioni molto belle, molto interessanti ma con pochi meme quindi sono qui io per salvarvi quindi come il titolo già lo sapete ovviamente la seconda slide è questa qua quindi fondamentalmente nella mia presentazione non è che hai il focus di insegnare come scrivere malware ovviamente perché se voi andate su GitHub ci sono talmente tanti codici e progetti diciamo creati per a scopo didattico che si possono riutilizzare diciamo per scopi malevoli non a caso infatti molti spesso ci capita di utilizzare di analizzare dei malware che hanno del codice appunto preso da GitHub ma dall'altro lato non volevo neanche fornire una presentazione che è praticamente basata sull'analisi del malware e sull'overse engineering che fosse una semplice carrellata di tecniche magari di anti-analisi e di queste cose quindi fondamentalmente ho pensato vabbè mettiamoci nei panni di chi scrive un malware quindi fondamentalmente voi io vi guiderò cercheremo di capire un po' quali sono le future il design che dovrebbe avere un malware per fare soldi e io sono il vostro cattivo ovvero io sono la persona che andrà ad analizzarlo che cercherà di estrarre le informazioni che voi andate a mettere all'interno del malware e poi io diciamo il mio lavoro è quello di avvertire i clienti circa la pericolosità chi sono? in genere anche qui vado molto veloce ma visto che ormai ci sono più security guru che i indirizzi pv4 disponibili vi beccate anche la mia la mia di descrizione questa è la quarta volta che sono da Kimbo la terza come relatore se non sbaglio forse ho il primato non so Mario se vi può confermare comunque è sempre un piacere essere qui io lavoro come un senior security researcher per cross strike magari alcuni di voi probabilmente l'hanno già sentita come azienda quindi io sono quella persona che analizza il malware estrae queste informazioni scrive delle regole se c'è da scrivere e manda queste informazioni ai nostri clienti faccio parte del board di O'Hospitaly dal 2006 ho avuto la fortuna e l'onore di scrivere su Frack quanti di voi conoscono Frack? che cos'è? ok bene grandi sono uno sviluppatore appassionato quella è un po' la mia github la timeline in particolare di Fsharp che è un linguaggio in dotnet in cui cercherò di mostrarvi anche un progetto che ho sviluppato proprio per l'analisi dei malware non va si è già scaricato ok qui è anche un progetto che porto avanti l'ho messo giusto perché è interessato lo voglio provare voi avanti nextoid è andata è andata oh fantastico ok allora di che tipologia di malware parliamo innanzitutto parliamo di non di uno script che scrive un malware in dotnet dove ha appena imparato C Sharp da un mese e prova a venderlo su Hackforum ma parliamo di malware professionali molto complessi perché parliamo di malware beh quando parliamo appunto di questo argomento sapete dirmi un nome di un un criminale che ha fatto davvero tanti soldi con l'utilizzo di malware molto molto famoso un nome comincia per S chi ha detto Slavic qualcuno ha detto Slavic sì fondamentalmente chi Slavic è il nick del nome che provo a pronunciarlo Eugene Bokacev se non sbaglio Bokacev praticamente è colui che ha creato Zeus lo conoscete Zeus avete mai sentito parlare di Zeus Zeus malware bancario perfetto lui è riuscito a fare è stato perché è famoso perché negli anni in cui è uscito diciamo lui è stato un po' il primo colui che ha preso questa tematica ed è riuscito a fare davvero tanti soldi con questo malware qualche anno dopo ha ripetuto questo successo creando il concetto del ransomware ok per poi sparire qual è la cosa interessante insomma tra virgolette sempre di Slavic che non è stato arrestato cioè ogni tanto noi sentiamo ovviamente dei criminali che vengono arrestati lui è ancora in libertà e in libertà nessuno sa che fine abbia fatto e anzi se qualcuno si volesse divertire a cercare informazioni l'FBI dà 3 milioni di dollari a chi fornisce informazioni per poterlo catturare quindi ovviamente i malware ci sono ci sono e sono lucrativi come concetto quindi parliamo appunto di 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 malware professionali questo è una slide molto importante anche se abbastanza banale così quindi sulla parte sinistra sulla parte sinistra c'è quello che noi ora sappiamo quindi quello che tutti noi già dovremmo sapere ovvero come funzionano quei particolari tipi di malware come ransomware gli ATM malware di cui ne ho parlato nella nella scorsa edizione e sappiamo che tutti questi tipologi di malware producono un profitto prendiamo il ransomware che è quello che un po' tutti conosciamo come funziona il ransomware noi lo becchiamo clicchiamo sulle nostre email o quello che è insomma sul contenuto malevole si attiva questo malware che cifra tutti i nostri file e dopo un po' ci chiede un riscatto ovvero dovete pagare un tot di soldi in un certo modo per poter avere i vostri file decifrati questo è quello che noi già sappiamo ma proviamo quindi a metterci in questa situazione vogliamo scrivere il nostro ransomware vediamo come fare e sappiamo qual è il design di base ovvero dobbiamo capire come cifrare questi dati come ne cifro questi dati ci sono un po' di scelte no? voi avete suggerimenti su cosa potrei utilizzare per poter cifrare ci sono tante tipologie noi ne abbiamo visti anche nelle presentazioni che ci sono state alcuni algoritmi anche nel nel gecchino ho sentito un ROT13 che non è molto futuro come Malware Writer ho sentito AS da qualche parte sì fondamentalmente l'AS questo algoritmo simmetrico è un algoritmo molto robusto quindi io posso cifrare tutti i miei file con tutti i file diciamo della vittima con AS e quindi a questo punto sono sicuro che se la vittima non ha la chiave lui non può fare niente non può decifrarli ok vabbè io ho questa chiave ho cifrato i file con AS questa chiave dove la mando la devo andare da qualche parte se no come faccio io a creargli il programma per decifrare quindi la dovrei mandare in teoria a un back-end ma come la mando? cifrata qualcuno dice cifrata giustamente perché in un post recente su un ransomware questa chiave non veniva cifrata quindi se voi eravate in possesso del dump di rete era fregata questa roba qui come la cifro? chiave pubblica è privata un algoritmo me lo dite un nome? RSA RSA è omnipresente e fondamentalmente io prendo la mia chiave cifro tutti i file con questa chiave la cifro con la chiave pubblica che io andrò a embeddare all'interno del binario e la mando al mio back-end a questo punto lui non può fare niente perché io ho la chiave privata creo il programmino diciamo per decifrare con tutte le informazioni quindi con la chiave è giusta e lui può decifrare ok qualche altra accortezza fondamentalmente perché quindi a questo punto noi abbiamo scelto gli algoritmi ah un'altra informazione quindi abbiamo scelto AS e abbiamo scelto RSA ora io sviluppatore cosa devo fare? devo andare a implementarli ho due scelte secondo voi implemento utilizzando le Windows Crypto API o vado su GitHub prendo un progetto open source di cifratura e utilizzo quello? GitHub perché GitHub e non le Windows Crypto API? noi sappiamo il mantra della sicurezza no? cioè il mantra scusate quanto riguarda la crittografia non reimplementare cioè a meno che non siate molto sicuri evitate di reimplementare gli algoritmi quindi è curioso perché qualcuno di voi dice GitHub? quindi ok la risposta è pensando sempre che io sono il vostro opponente quindi sono io che andrò ad analizzare il vostro malware io a reverse engineering faccio molta ma molta più fatica ad analizzare un codice preso da GitHub che ad analizzare è un codice che utilizza le Windows Crypto API in particolare nella prossima slide vediamo questa è un diciamo un codice semplificativo di una parte di AS in cui utilizza l'S box no? se voi utilizzate il Windows Crypto API quando io vado a fare il reversing oh vedo che chiamate questa funzione chiama AS utilizza 256 bit la chiave eccetera eccetera quindi so già tutta una serie di informazioni potrei andare allo step successivo come ad esempio capire se ci sono dei bug o meno nelle implementazioni nel caso invece di progetto open source che è staticamente diciamo comunque che è embeddato nel binario ho un po' di problemi devo andare a capire che una certa funzione è AS e non qualcos'altro nel caso di AS ci sono le Sbox quindi ci sono dei plug-in per IDA Pro per chi non lo conoscesse IDA Pro è un tool molto utilizzato da RS Engineering e lo vedremo anche tra poco e lancio questo plug-in e lui mi dice guarda che la funzione che si trova all'offset 1, 2, 3, 4 ha una costante dell'Sbox quindi probabilmente quella tua funzione utilizza AS quindi io sto cifrando questa è un'informazione molto importante perché io poi posso continuare la mia analisi mentre in questa slide voi avete detto RSA RSA è davvero diciamo fastidioso perché fondamentalmente RSA non ha delle costanti su cui io mi posso appoggiare su cui io posso fare fingerprinting quindi quando mi trovo a fare il reverse di RSA mi trovo del codice molto 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 complesso che fa delle operazioni matematiche abbastanza complesse da analizzare visto i numeri in gioco sono molto alti quindi non è così facile abbiamo però ci sono qualcosa in aiuto diciamo un po' di che ci viene in aiuto sono questi suggerimenti allora innanzitutto se andiamo su wikipedia vediamo che wikipedia ci suggerisce sì ok noi sappiamo che la funzione RSA i numeri devono essere in questo modo ma per l'esponente il numero più utilizzato in assoluto è 65.537 ovvero in codice decimale 1 0 0 0 1 quindi nel momento in cui io analista vado a trovo una funzione che ha delle complesse operazioni matematiche e utilizza due buffer per per cifrare quello che è il dato e uno di questi due buffer contiene questo valore allora ho c'è una buona probabilità che quello sia RSA ovviamente non sono per certo però c'è diciamo c'è una buona probabilità appunto che sia RSA quindi ho un po' un prodotto quello che significa un po' fare il reverse engineering del malware quindi quello che faccio io cercare di andare a spippolare un po' questo codice assembler è capire che cosa fa ed estrarre fuori le informazioni e qua un po' c'è un po' questa idea che fare il reverse engineering sia un qualcosa di non banale non molto complesso fondamentalmente perché i reverser analizzano parecchio il codice assembly e c'è questa idea che il codice assembly sia molto complesso da capire beh allora vediamo un po' se è davvero così complesso da capire ok vi do per fortuna Angelo vi ha già un po' introdotto anche alcuni concetti base quindi queste poche righe di codice vediamo un po' che cosa fanno innanzitutto c'è il registro di segmento fs quando voi vedete qualcosa tra parentesi quadre quindi significa che io vado a quell'offset lì a quell'indirizzo di memoria leggo il contenuto e lo metto diciamo nella destinazione tra l'altro questo è sintassi intel no itat perché credo ci sia un girone degli inferni perché scrive sintassi a t ok quindi in questo caso cosa fa vado all'offset 30 prendo del registro fs prendo quello che c'è lo metto in a x poi ci sono quattro istruzioni che fanno una cosa davvero molto simile ovvero vanno all'indirizzo di memoria a x aggiungo c prendo il contenuto e lo metto in x e questo lo fa tre quattro volte finché non ritorna quando ritorna per convenzione a x conterrà il valore di ritorno della funzione ora leggendo queste righe di codice quanti proprio non hanno idea di quello che ho appena detto non è proprio complessissimo vedo che qualcuno però la maggior parte insomma non è un codice diciamo non è così difficile in fin dei conti spesso a meno di casi complessi si tratta di spostare un po' di aree di spostare diciamo in registro un po' di dati fare il push ora sto semplificando in modo esagerato eccetera eccetera però diciamo leggerlo così di riga per riga non ci vuole molto ma nella prossima questo è quello che diciamo la gente o comunque chi prima chi si approccia inizialmente può pensare ma nella prossima slide questo è quello che invece viene un reverse engineering ok quindi in verità non è che ok è giusto quello che abbiamo detto nella slide precedente ma chi fa reverse engineering sa che in verità io vado a leggere il registro FS che contiene un puntatore o la struttura teb il trade environment block in particolare nella struttura teb all'offset 30 c'è un puntatore alla struttura peb che è il process environment block ovvero descrive un po' il vostro processo dopodiché vado a leggere l'offset c di questa struttura a questa struttura corrisponde il loader che a sua volta è un'altra struttura vado faccio diciamo faccio il walk di questa struttura quindi leggo è una struttura con dei link quindi list entry leggo il primo link che è un puntatore a un modulo dell'order che contiene che descrive il nome del programma vado al secondo link che descrive la libreria NTDLL vado al terzo link che descrive il kernel 32 e di questa struttura ottengo la proprietà all'offset 18 che è la base di LLBase quindi fondamentalmente questo codice sono passato da ritorna qualcosa nel registro EAX a questo codice non fa altro che ottenere l'indirizzo di allocazione della della libreria kernel 32 quindi capite che ci sono diverse gradi diciamo di diversi livelli di di comprensione se vi state chiedendo se questa cosa viene fatta perché poi io vado a analizzare quello che è la export address di questo modulo per risolvere le funzioni è corretto ora tutto il codice che voi qua vedrete che può essere complesso è perché è preso da un caso di malware reale che poi vedremo ok altra slide altro esempio molto molto veloce questo è un altro esempio ah una cosa che non vi ho chiesto quindi voi dovrete comunicare la vostra chiave al back end quindi dovete mettere l'url del back end all'interno del vostro file e come lo come lo mettete lo mettete in chiaro ovviamente se ve l'ho chiesto la risposta è no e come lo proteggete lo genero potrebbe essere un dga oppure se invece utilizzo un indirizzo statico e buona norma cosa fare non buttarlo lì in chiaro sul binario ma offuscarlo perché non lo voglio mettere in chiaro beh perché ci sono tanti analisti che fanno uno strings sul vostro file si beccano lo url e nel report riescono subito ad identificarlo qual è l'indirizzo del back end quindi ciò che io vado posso fare è offuscarlo con offuscarlo significa che io devo renderlo diciamo illegibile è arantaneo quando il malware viene eseguito quindi non staticamente questo viene risolto e contattato in questo caso cosa succede vado molto velocemente comunque fondamentalmente questa è la routine sempre del malware di prima che legge il puntatore che legge un array che comincia dove c'è il box il box rosso va a un certo indice attraverso il registro e a x e legge il contenuto quindi fondamentalmente quello è un array con questa struttura questa struttura che voi vedete non è perché non è ricavata dal fatto che io ho il codice sorgente ma semplicemente andando ad analizzare il codice assembly cosa vedo vedo che inizialmente c'è una lettura al punto 2 di una word quindi significa che quello è un campo con 2 byte quindi un int 16 ad esempio dopodiché alla riga 3 leggo una double word quindi so che quello è un puntatore di 4 byte quindi sarà un int 32 e alla riga 5 ho le gone byte quindi quello è semplicemente quindi un int 8 quindi da queste informazioni io mi sono tirato fuori quella che è la struttura e alla fine cosa fa ora fa fondamentalmente velocemente fa l'oxor di una certa di un buffer con una chiave che è il primo byte e cosa è importante alla riga 7 imposta l'ultimo byte di questo buffer a 0 vi ricorda niente un qualcosa un buffer che l'ultimo byte è sempre 0 una stringa quindi fondamentalmente questo è il codice del malware che deoffusca la stringa per poi utilizzarla questo viene fatto a runtime ok ok quindi io spero che con questi esempi effettivamente di aver fatto capito che l'assembly non è difficile di per sé come linguaggio l'aspetto difficile è riuscire a contestualizzare quello che viene diciamo fatto dalla funzione la verità è che chi fa reverse engineering cerca di utilizzare al massimo i propri strumenti in questo caso chi utilizza IDAPRO ha un fantastico decompilatore che premio F5 e da quel brutto codice assembly che voi vedete in verità appare questa cosa molto bella che è un codice pseudo C ovviamente un discorso è analizzare dell'assembly un altro è discorso utilizzare pseudo C ovviamente io che faccio questo di lavoro vado sempre per questo codice pseudo C quando posso la verità è che anche voi che scrivete il malware lo sapete che questa cosa mi aiuta parecchio nell'analisi quindi cosa fate provate a romperlo in qualche modo innanzitutto i decompilatori non esistono solo per codice unilativo ma chi sviluppa in .NET avrà sicuramente sentito parlare di altri decompilatori ecco per .NET la questione è ancora molto più grave qui vedete un esempio in cui sulla sinistra c'è un codice che ho scritto io un po' di tempo fa quando ancora non conoscevo il fantastico linguaggio F-Sharp e sulla parte destra c'è il codice decompilato cioè guardate escluso le informazioni delle variabili locali il codice è esattamente identico quindi diciamo decompilatori per .NET sono davvero molto molto potenti allora cosa faccio beh io attaccanti o meglio voi attaccanti che non volete questa cosa qui cercate di romperli questi decompilatori ovvero evitare che il vostro codice venga decompilato i decompilatori come funzionano loro si basano su certe informazioni specifiche del compilatore ad esempio se io vado a chiamare un metodo di stanza ovvero un metodo di una classe per chi diciamo è un po' smanettato con il linguaggio di programmazione saprà che il primo per chiamare un metodo di una classe gli serve il puntatore a this o per chi programma in python a self questo è tipicamente il primo argomento che gli viene passato quindi vedete in alto viene fatto un ld arg zero questo non fa altro che passargli alla funzione il puntatore per essere chiamata ma cosa succede se io invece faccio elimino questo puntatore e chiamo la funzione distanza senza passare questa cosa qui quindi come vedete ho eliminato il passaggio del puntatore ovviamente questo codice non è valido quindi io poi metterò un jump incondizionato per far scattare questo codice lo metto lo compilo esplodo tutto quindi vedete quindi se io dopo quel codice vado a implementare la mia routine segreta il decompilatore muore quindi questo è un test che ho fatto un po' di tempo fa quindi magari un po' ho fissato però di questi quattro decompilatori che sono quelli più potenti nessuno è riuscito a capire quindi hanno tutti generato un errore e quindi io non riesco a leggere il codice se non andando appunto a vedere proprio il codice di basso livello ok quanto riguarda IDAPRO andiamo un po' un po' più nel dettaglio questo è un codice che ho scritto io in assembler in MASM ora questo fa due cose ora non guardate molto il codice l'ho messo lì diciamo per chi adora questi tecnicismi fondamentalmente ci sono due algoritmi il mio algoritmo segreto che io non voglio che l'analista diciamo lo scopra per poter rompere per rompermi le scatole e fondamentale estrarre le informazioni è un codice molto banale prende in input un numero e fa l'oxor con code chaos ovvero quella stringa decimale scritta in modalità axor ok quindi ho queste due routine la prima quella sulla sinistra quella in blu non faccio nessun tipologia di protezione quella sulla destra invece vedremo che applico una protezione prendo assemblo il codice lo apro in idapro e questo è quello che vedete ovviamente essendo scritto il programma in assembler ho proprio una è proprio identico aperto in idapro quindi vedete che idapro non ha alcun problema se invece vado ad aprire il secondo la routine protetta idapro schiatta ovvero non è che si rompe ma semplicemente a un certo punto mi dice guarda che io questo codice non so cos'è nonostante sia assembler quindi idapro va al basso ancora non stiamo parlando di decompilatori vede questa roba e dice io non so che cosa sia quindi te la butto lì come data fai tu vedi tu cerca di risolverle quindi a questo punto proviamo a decompilare quindi non più disassemblare vedete che idapro nel primo caso perfettamente la funzione riesce a identificarla quindi è una funzione in cui io gli passo il numero 5 nel secondo caso invece di nuovo ha problemi ma attraverso diciamo della redefinizione dei dati quindi io gli dico no guarda che queste non sono dei dati sono del codice quindi lui una volta aiutata un po' un parecchio ok ora ci sono anche la seconda e una chiamata a funzione e accetta il numero 5 se io ora vado nella prima funzione e provo a decompilarla perfetta tranne un primo codice rdtsc vedete che anche qui la decompilazione è esattamente questa quindi vado a fare loxor del mio valore in input col numero code chaos quando invece vado avanti e provo a decompilare la seconda idapro schiatta ovvero da errore mi dice guarda che la switch analisi è fallita non riesco a decompilarlo fondamentalmente perché molto velocemente quando io idapro ovviamente per la decompilazione anche lui o anche lei si basa su su informazioni del compilatore quindi se io vado ad esempio come in questo caso specifico quando io devo decompilare un codice che ha un costrutto switch al suo interno il compilatore tipicamente cosa fa utilizza una switch table ovvero se io ho tre casi 0, 1, 2 e ognuno a seconda che sia 0 a seconda che sia 1 o a seconda che sia 2 devo eseguire del codice differente il compilatore cosa fa crea una tabella di dati in cui c'ha degli offset in questo caso tre offset e a seconda del caso che io scelgo salterà a uno di questi a seconda delle intenzioni io cosa ho fatto in questo caso invece di dire guarda che la tabella degli offset è questa qui è questa corretta io ho messo una porcheria la tabella degli offset in questo caso è real code quindi ovviamente quando prova a decompilare vedrà che questo codice è una porcheria e dice no io non riesco a decompilarlo ovviamente noi come malware come autori faremo un jump di questo codice ed ecco che chi vorrà analizzare questo codice si dovrà per forza andare a leggere l'assembler oppure dovrà un attimo patchare il codice in modo con delle azioni non proprio banali ora per mostrarvi che non sto dicendo una fesseria c'è il video di questo aspetto ok qua è esattamente vedete questo è il tool che tipicamente utilizzo per buona parte della mia giornata quello in cui io analizzo i malware queste sono le due funzioni ok vedete la seconda è quella che dà problemi vedete lì c'è quei dati che vi dicevo che in verità sono del codice ora cosa sto facendo sto dicendo guarda che queste non sono dati ma è del codice quindi lo definisco attraverso un po' di aiuto e dopo lo dici ah hai ragione è vero quindi ridefinisco questi dati vedete che entrambe le funzioni ora hanno la stessa costante con cui io andrò poi a fare a creare il risultato creo una funzione questa volta è riuscito a crearmela tranquillamente e cosa faccio ora? ora provo a decompilare premo F5 e quello che succede è che vedete è perfetta cioè è esattamente quello che mi aspettavo la prima funzione viene decompilata perfettamente ma quando vado a decompilare a provare a decompilare la seconda vedete che mi dà l'errore quindi in questo caso io che scrivo malware ho fregato diciamo comunque do molto fastidio all'analista perché diciamo non riesce a recompilare e quindi si dovrà andare ad analizzare il codice assemble ok questo qui allora di nuovo sempre sempre velocemente qual è lo step ancora successivo e va bene questo non mi basta se io becco qualcuno che è davvero bravo in assemble lui non ha problemi qual è lo step successivo per proteggere il mio malware lo step finale è quello di implementare una protezione basata su su vm quindi su vm significa è un concetto simile a quello che tutti noi sappiamo però fondamentalmente io ho una lista quindi io che vado a reversare il malware perché come ho già detto so tutta una serie di cose so che il malware giro su architettura il tel32 so qual è l'instruction set so qual è la culling convention so qual è il memory layout so come il compilatore funziona quindi tutte queste informazioni ovviamente a me mi aiutano immaginate di essere in una situazione in cui voi non sapete niente non sapete qual è l'instruction set non sapete in che modo vengono chiamate le funzioni eccetera eccetera questo è esattamente quello che è quello che diciamo la protezione basata su vm in questo caso è un ho provato anch'io a creare una piccola protezione in cui fondamentalmente questo è un linguaggio di programmazione che ho inventato è molto a livello molto simile all'assembler in cui il programma che assembla questo codice scritto in fsharp mentre la virtual machine lo scritto in assembler Intel ovviamente quindi vedete che in questo caso nel riquadro blu ho un'operazione di XOR quindi vedete che è molto differente da quella in verde che è quella creata da Intel e ora voi immaginate di dover capire semplicemente guardando questa rappresentazione appunto come funziona la virtual machine ciò non è ovviamente non è impossibile perché comunque questa virtual machine gira su architettura Intel quindi un po' mi aiuta però capite che è estremamente più complesso andare a capire che cosa fa il programma questa è diciamo una delle protezioni a mio avviso molto più una delle mie protezioni più difficili da reversare ok velocemente fare reversing non significa sempre analizzare codici assembler dalla mattina alla sera a volte ci capitano anche dei dati e dobbiamo capire che cosa è in particolare questo è un esempio un po' vecchiotto se non sbaglio dovrebbero essere i servizi segreti inglesi ma potrei dire qualcosa di non corretto che tempo fa dovevano assumere un esperto di sicurezza allora cosa hanno fatto invece di fare come fanno tutti hanno pubblicato questo challenge online ok quindi bisognava rispondere appunto a questo challenge qui chi ha un po' di rimestichezza vedrà che questo fondamentalmente è del codice assembler in particolare dal primo byte e B la cosa interessante è che quella è un'immagine non è un testo quindi fondamentalmente loro hanno messo un'immagine perché andando avanti nella challenge all'interno dell'immagine c'erano altre informazioni che uno doveva dare a ottenere quindi fondamentalmente in questo caso diciamo non aiutava saper soltanto l'analisi del codice recentemente per chi volesse anche divertirsi l'NSA ha creato qualcosa di molto simile su quel sito e un esempio di cui vorrei farvi vedere è che recentemente mi è capitato qualcosa del genere ovvero mi hanno detto questo è questo database mi hanno detto ok mi devi scrivere un parser perché so che ci sono un tot di informazioni sensibili in questo database ho detto bella lì ho il binario lo apro mi vedo la routine che fa che aggiorna questo file ed è fatta vabbè apro il binario sarà stato un bel 4 megabyte di binario è già lì quindi ho detto vabbè è scritto in cpp tutto scritto in cpp quindi ora non per più ma reversare il cpp è un'altra davvero molto davvero fastidiosa ho detto vabbè no avevo poco tempo no proviamo un'altra un'altra strada vado ad analizzare prendo questo file me lo scrivo un po' sul su un quaderno e vediamo di capire se è qualcosa di interessante ok allora cosa ho fatto ho cominciato a scrivermi byte per byte ok quindi e9 07 eccetera eccetera e ho cominciato a vedere che c'è qualcosa di interessante innanzitutto vedete che ci sono tutta una serie di zeri in alcune parti quindi quelli probabilmente potevano significare degli offset degli offset verso ulteriori righe quindi ho cominciato a suddividere quelli che secondo me erano degli oggetti diversi del file quindi vedete che sulla sinistra ho cominciato a a scrivere ok questo per me è un oggetto A questo per me è un oggetto B un oggetto C finché non sono arrivato dove c'è la riga rossa che ho trovato questo nuovo rappresentazione che è un po' diciamo non ero molto sicuro infatti poi andando avanti avevo completamente sbagliato tutto quindi non c'era proprio nonostante avessi anche utilizzato gli evidenziatori per mostrare la figaggine in verità era completamente sbagliato perché a un certo punto diciamo non tornava a nulla va bene ripartiamo da zero alla fine questo non era un database ma era la serializzazione di una classe in c++ più salvata su file quindi dopo aver spippolato un po' di informazioni alla fine ci sono riuscite quindi fondamentalmente c'erano due record un oggetto e una proprietà semplice quindi intero stringa unicode eccetera eccetera che era scritta all'interno del file quindi da questa informazione è stato facile scrivere lo script in python ricorsivo affinché se lo potesse analizzare quindi non sempre fare il reverse engineering significa blandamente ciecamente andare a reversare l'assembler quindi ho dieci minuti e come ultima cosa vorrei farvi vedere questo questo è un altro progetto che io ho la mania di creare progetti basato su B2R2 quindi fondamentalmente come ho detto prima ci sono un sacco di routine che a volte proprio per quanto noi non abbiamo tempo per altri motivi non riusciamo non abbiamo tempo per farli reversare ma dobbiamo in qualche modo sapere che cosa generano in questi casi qual è il mio consiglio o perlomeno cos'è che faccio io è utilizzare un emulatore ne esistono tanti per esempio uno molto utilizzato è Unicorn è un emulatore basato su QEMU fondamentalmente tu gli butti del codice Intel e lui te lo emula ovviamente devi settare tutti i puntatori dei registri eccetera eccetera questa un'università se non sbaglio del Sud Corea a un certo punto ha fatto uscire questo framework B2R2 ovvero è un framework che prende il vostro codice assembler e fa un lifting ovvero lo traduce in un linguaggio intermedio ok quindi se qualcuno di voi conosce LLVM fondamentalmente è una cosa molto simile prende il linguaggio e lo traduce in questa rappresentazione la rappresentazione è abbastanza semplice in questo caso saranno una ventina di istruzioni e la cosa più figa di tutte è che è scritto in Fsharp quindi non potevo esimermi dal provarlo quindi ciò che ho fatto è provare questo framework ma mancava di un emulatore quindi la mia parte è stata creare un emulatore che prendesse in input la rappresentazione intermedia generata da B2R2 e la emulasse quindi fondamentalmente ora ho creato appunto questo emulatore che non fa altro che creare una sandbox ok vedete qui io creo una Windows 32 sandbox creo uno snapshot manager e dico ok carica il mio malware metti un event handler ovvero quando prima di eseguire ogni istruzione chiama questo mio codice qui e se l'instruction point il program counter raggiunge 401061 fai uno snapshot del processo ok ora vi mostrerò diciamo un po' come funziona molto velocemente ok quindi questo sto avviando ora il mio emulatore ora il mio emulatore è avviato ha caricato il malware internamente e ha creato un processo ovviamente il PID non lo guardate perché è fuori di testa lo devo ancora è ancora in fase di sviluppo diciamo ok quindi ha creato tutte le strutture del processo per poter essere emulato se io ovviamente con il tasto così vedo tutti quelli che sono i miei comandi supportati dall'emulatore posso far evidenziare posso far stampare quelli che sono il memory map ovvero in questo caso tengo non ho fatto altro che andare a mappare a certi indirizzi tutte le librerie che vengono richieste dal malware come in questo caso appunto kernel base poi kernel 32 eccetera eccetera qua in alto sono delle librerie fake fondamentalmente ovviamente io voglio emulare il malware ma non sono così pazzo tra virgolette di andare anche a voler emulare il codice di kernel 32 in quel caso io vorrei che una mia funzione venisse invocata ed è proprio questo quello che ho fatto quindi col comando P non faccio altro che andare a eseguire quindi qua vedete fondamentalmente io sto andando a eseguire il processo riga per riga ecco a questo punto il processo chiama la query performance counter ovviamente io non voglio che lui vada a emulare kernel 32 quindi questa cosa ora cosa succede in verità andrà a chiamare una mia funzione quindi una mia funzione che emula la funzione kernel 32 e quindi vedrete che è molto più veloce da emulare quindi io a questo punto continuo posso continuare qua c'è un'altra funzione volevo mostrarvi una cosa ecco qui c'è un po' di codice assembler che viene generato finché emulo 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 e ho questa chiamata mi soffermo un attimo su questa qui questa è la get last error fondamentalmente la mia implementazione di default è che questa funzione ritorna a zero ovvero tutto va bene in verità se io vado a disassemblare quello che c'è dopo proviamo a capire un po' eax vi ricordate cos'è eax è il registro che contiene l'informazione di ritornata dal metodo quindi lui fa un controllo 6ax è uguale a 57 salta a quell'offset 3d5 dove ci sono in fondo tutta quella serie di funzioni di chiamate a funzioni quelle là sono il corpo vero e proprio del malware se invece non è uguale all'errore 57 salta all'indirizzo 3d1 ma non c'è l'indirizzo 3d1 lì quindi c'è qualcosa che non è proprio corretto cosa significa questa è un'altra metodologia utilizzata dai malware per creare diciamo un po' di di noglia fondamentalmente ovvero ciò che fa è andare nel mezzo del codice ed eseguire qualcosa che non c'è che è sbagliata quindi fondamentalmente lì dopo un po' si schiatta fondamentalmente il codice ecco diciamocelo per virgolette mentre io cosa ho fatto sono andato sono andato a sovrascrivere l'implementazione di default e faccio ritornare il valore 57 dico ok quindi fa ritornare il valore 57 a questo punto il malware dice ah ok sto su un ambiente reale posso essere posso proseguire con la mia esecuzione quindi con con G perfetto ora ecco questa è l'emulazione se volete fare una foto da hacker questo è il momento corretto ok quindi vedete lui sta emulando sta emulando altro problema noi potremmo andare a prenderci un caffè fare la cena qualsiasi cosa lui sta ancora emulando il problema è quello che se io provo a emulare in questo modo l'emulazione è estremamente lenta quindi c'è che io posso fare quello di di cercare di ottimizzare un po' il più possibile questo aspetto qui quindi ad esempio potrei caricare questo script qui poi faccio un hide del disassembly perché stampare tutto il disassembly non è semplice ok ora lui sta emulando però non stampa il disassembly non lo vedete però è molto molto più veloce l'ultima cosa della demo che voglio mostrare vediamo se va ok quindi questa cosa cosa ho fatto fondamentalmente prima avete visto che c'era uno ah è andato questo ok vabbè fondamentalmente ve lo spiego a voce quello che ho fatto è salvare uno snapshot del processo e da lì caricarlo quindi da lì in poi quindi una volta che io ho raggiunto un certo un certo un certo program counter l'ho salvato per poter andare ad analizzare meglio ovviamente capite che questo questo tool non è un tool che uno va direttamente per quando fai reverse engineering non è la prima cosa che utilizza perché ovviamente rispetto a IDAPro è molto più complesso in questo caso il malware che avete visto è Kpot quindi un malware reale che viene venduto tra i tra i 85 e i 25 dollari su su forum diciamo relativi a forum underground e utilizza tante altre compromisure ma sono tutte compromisure che abbiamo già visto questo è quello che abbiamo visto prima ovvero il risolvere le funzioni attraverso la attraverso diciamo la export address table del modulo quindi in questo modo io non so a priori quali sono le reali funzioni che utilizza perché a volte succede che io come programma diciamo di intelligente di machine learning nel momento in cui vedo che un set specifico di funzioni viene utilizzato dal malware magari vuol dire che quello stesso set l'ho ritrovato anche molto più frequente nei malware quindi se io vedo questo set in un binario sconosciuto potrei dire è lo stesso che ho trovato anche in altri malware quindi posso aumentare l'indice diciamo di pericolosità del binario quindi ovviamente nascondere quali sono le funzioni effettivamente utilizzate è un qualcosa che l'autore del malware vuole quindi qua era quello di cui vi ho parlato emulare sì va bene però metti un po' il bug nel codice che ancora devo fixare e il fatto che l'emulazione non è veloce come lo può essere su hardware può creare qualche problema ok quindi fondamentalmente sì creare strumenti per l'analisi dei malware non è esattamente così semplice come possa sembrare però fondamentalmente perché c'è bisogno di una certa conoscenza nel loro utilizzo però una volta che questi strumenti sono stati diciamo una volta che voi avete acquisito questa conoscenza possono essere molto molto effettivi nel nel velocizzare l'analisi di certi malware quindi una volta che voi avete preso un sample di una famiglia sapete vita morti e miracoli nel momento in cui l'autore fa un recompile del codice o utilizza un qualsiasi altro criptor per modificarlo voi avete i vostri bei programmini di automazione o di emulazione che possono estrarre tutte le informazioni come appunto il dominio le chiavi di cifratura eccetera eccetera perfetto avrei finito grazie anche per te ci sono un sacco di domande ne seleziono qualcuna in crowd strike cosa vedi per reversare temida e vm protect domanda da un milione di euro allora ciò che posso dire ufficialmente è che riceviamo degli aiuti nel caso di temida o vm protect quindi per chi non lo sapesse quando ho accennato all'offuscazione a quella che può essere l'offuscazione più complessa per quanto riguarda malware quella basata su vmware ecco temida e vm protect sono appunto due protezioni basate su un vmware in quel caso diciamo che abbiamo dei tool e delle convenzioni per poterli analizzare fortunatamente devo dire che non sono molto utilizzati all'interno dei malware quindi tipicamente sono più utilizzati per proteggere i programmi leciti come ad esempio videogiochi o eccetera del genere l'unico caso in cui quindi tipicamente i malware non utilizzano degli offuscatori commerciali uno dei casi in cui ho visto che effettivamente vengono utilizzati degli offuscatori commerciali è per malware relative ad ATM in quel caso diciamo c'è stato un investimento il tizio ha deciso di comprare questo offuscatore per renderlo molto più difficile da analizzare cosa succede se il malware rimuove gli hooks userland scusa cosa succede se il malware rimuove gli hooks userland rimappando le DLL si riesce comunque a debaggare il processo dall'emulatore allora sì se la domanda è relativa a Sojobo quindi al tool assolutamente sì perché è come se io eseguissi il malware e avessi pieno controllo a livello di virtual machine quindi lui nell'emulazione non vede hooks quindi fondamentalmente un hooks cos'è? è un pezzo di codice che io vado a rimpiazzare per fare una jump quindi verso un altro codice da me controllato a che cosa serve? in alcune sandbox questi stratagemi vengono utilizzati per capire quando il malware fa una write memory o se fa l'open process di un processo remoto o se fa una thread injection e qualcosa del genere quindi io vado a mettere a modificare il codice in modo da essere avvertito ovviamente questo se è fatto tutto in user land ciò che hanno appena chiesto cade ovviamente perché se il malware va a vedere ah qua c'è un hook c'è un hook di questa specifica funzione io no non vengo eseguito quindi cade mentre se questo controllo viene fatto a livello più basso quindi per farvi un esempio a livello di virtualizzatore il malware non riesce a vedere che c'è questo pezzo di codice perché è proprio all'interno del virtualizzatore che io faccio il controllo del problem counter quindi in questo caso anche se lui fa un check su hooks l'emulatore continua a funzionare ultima quanto l'introduzione di Ghidra ha aiutato a chi fa reverse di malware quanto scusami l'introduzione di Ghidra ah ok allora Ghidra sarò sincero non l'ho utilizzato molto anzi molto molto poco a dire la verità fondamentalmente perché ho una licenza in cross strike di IDA Pro quindi sono spriotizzato IDA per chi non lo sapesse Ghidra è un tool di reverse engineering molto molto simile a IDA Pro che è stato rilasciato un po' di tempo fa dall'NSI è un tool estremamente potente e se qualcuno di voi è interessato ad approcciare il reverse engineering è sicuramente tra i primi tool che gli consiglio di utilizzare perché anche lui ha un decompilatore molto molto potente prima di Ghidra non credo ci fossero decompilatori free di quel livello quindi sicuramente per chi vuole cominciare o per chi fa reverse engineering Ghidra è un ottimo strumento e aiuta parecchio ripeto nel mio caldo io ho la licenza di IDA Pro quindi non non ho avuto diciamo la necessità di passare a Ghidra bene grazie mille Antonio bravissimo